buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di calendario posturale oggi lavoreremo sulla respirazione e la abbineremo all'ascolto del battito cardiaco quel che andremo a fare sarà metterci in ascolto del nostro battito cardiaco lo posso fare posizionando due dita a lato del polso se la mano è la sinistra verso il lato esterno sinistro altrimenti al lato sinistro della della gola se la mano ovviamente che sto usando la destra altrimenti viceversa se uso la sinistra devo ricercare un pochino il battito quindi sprofondo leggermente tra i tessuti fino a cercare di sentire il pulsare del del mio battito cardiaco lo posso come abbiamo detto fare o sul polso oppure anche a livello della gola senza essere troppo invasivi quel che andrò a fare sarà iniziare a sincroni a sintonizzarmi sul battito cardiaco e ascoltare sei battiti mentre sto prendendo aria sei battiti mentre sto buttando fuori aria quindi mi sincronizzo sento i battiti e nel frattempo prendo aria arrivato a sei butto fuori aria continuo a contare sei battiti prendo aria in sei battiti butto fuori aria in sei battiti il tutto senza pause nel mezzo a ciclo continuato ben concentrati sulla percezione del battito e incominciamo abbiamo tre minuti di tempo che incominciano da questo momento schiena ben dritta ascolto costante del battito cardiaco sei battiti prendo aria sei battiti butto fuori aria grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti cercate di non divagare con la mente rimanete ben concentrata la percezione dei battiti ardiaci sei prendo aria sei butto fuori aria grazie a tutti 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 respirare normalmente. La lezione per oggi è terminata, vi consiglio magari di rifare questa lezione ogni volta e sentite un certo livello di stress o anche prima di andare a dormire per acquietare un po' il sistema nervoso prima del sonno. Detto questo, noi ci vediamo come sempre domani per una nuova lezione. Grazie per la visione!